Abbiamo riaperto, riapriremo lunedì prossimo al 18 e starà aperto fino al 22, quindi fino a venerdì della settimana prossima il bando per aderire alla richiesta di buone spese per i beni di prima necessità e per le persone in qualche modo danneggiate economicamente dalla crisi conseguente alla pandemia e quindi soprattutto per le famiglie. Abbiamo già distribuito più di 100.000 euro che ci sono stati assegnati dallo Stato con il primo bando una cifra superiore ai due terzi, quindi abbiamo riaperto i termini del bando per ridistribuire circa 30.000 euro che abbiamo ancora a disposizione. Chiaramente le persone che faranno richiesta saranno quelle che non hanno usufruito con il primo bando quindi sono praticamente gli esclusi. Tenuto conto che abbiamo avuto anche dei problemi relativi alla consegna materiale delle domande legate ai problemi di invio con la posta elettronica e ci rivolgiamo appunto a queste persone che non sono state in grado nel primo bando di aderire e anche a chi si trova nelle condizioni di poterlo fare. Le domande questa volta saranno presentate sempre via mail al protocollo ma ci sarà la possibilità di presentarle anche alla mail dei servizi sociali e in alcuni casi quando è particolarmente difficile per le famiglie anche manualmente ai nostri uffici. Quindi abbiamo cercato di favorire al massimo l'adesione delle persone. Per quanto riguarda questi buoni in che maniera si possono usufruire? Per quanto riguarda la parte di buoni già segnati che sono come dicevo appunto attorno ai 60.000 euro vengono consegnati alle famiglie che ne hanno diritto delle tessere, delle carte tipo carte tessera prepagate con le quali possono rivolgersi nei negozi che sono convenzionati quindi tutti i generi alimentari della zona, i supermercati, le farmacie e tutti i negozi i cui prodotti rientrano nella categoria spendibile con i buoni. Chiaramente questo ha un doppio effetto. Intanto il negoziante è favorito perché viene subito accreditata la cifra e non ha bisogno di un ulteriore passaggio per richiedere il rimborso. C'è una maneggevolezza per quanto riguarda le persone che ne hanno bisogno e cerchiamo anche in qualche modo di favorire anche piccoli negozi di genere alimentare del nostro territorio quindi ci sembra comunque un meccanismo molto positivo di distribuzione di queste risorse.